Ecco l'atrio della costa mediterranea, visto dal ponte 9, gli ascensori panoramici, quella scala che porta al club Medusa. Ecco il ponte 3, la galleria fotografica. E' la vista dell'aul centrale. Ecco l'atrio centrale, stiamo per arrivare a Guadalupe, si vede che c'è una certa confusione. Andiamo verso la galleria dei negozi. Un po' di parei, marcellaria, borse. Il salone orientale. Qui c'è la scala che poi collega il ponte 3 col ponte 2, Piazza Casanova. Ora riprendiamo l'ascensore e andiamo verso il ponte 9. Ponte 9, la piscina di Crua. E qui siamo alla piscina centrale. Questo è il buffet Perla del Lago, al ponte 9. Perla del Lago.